Pagava le ragazze con dosi di cocaina ed eroina. In cambio le obbligava ad avere rapporti sessuali con lui oppure con altre persone all'interno del suo appartamento. E' quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di stato al termine di un'indagine su un giro di prostituzione e droga nella città di Trani. In manette è finito un 67enne del posto Giovanni Di Leo volto noto alle forze dell'ordine. I poliziotti del commissariato locale sono arrivati a lui a seguito di una serie di accertamenti che hanno evidenziato le sue responsabilità in merito alle attività illecite. In base agli elementi raccolti dagli investigatori l'uomo fino allo scorso mese di agosto nascondeva in casa stupefacenti di diverso tipo destinati a giovani donne poco più che ventenni. Una storia andata avanti per diverse settimane con lo stesso copione. Prima qualche dose gratuita, poi le ragazze dovevano pagare, con denaro contante oppure, se si trovavano in difficoltà economiche, attraverso prestazioni sessuali. In alcuni casi i rapporti venivano consumati sempre all'interno dell'abitazione con altri clienti contattati dallo stesso 67enne che riceveva parte del ricavato incassato dalle giovani. Diverse le donne, tutte abituali consumatrici di eroina e cocaina, che frequentavano abitualmente l'appartamento, così come accertato durante l'attività investigativa. Lo scorso 30 agosto, a seguito di una perquisizione domiciliare, il padrone di casa era stato anche trovato in possesso di alcune dosi di hashish. Scattato l'arresto, l'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Trani, in esecuzione di un'ordinanza di custoda cautelare emessa dal GIP del tribunale locale su richiesta della procura. E' accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e induzione, favolgiamento e sfruttamento della prostituzione.